La Regione Campania si muove contro l'autonomia differenziata voluta dal Governo Meloni e approvata definitivamente dal Parlamento. Il Consiglio regionale infatti si sta preparando a votare una richiesta per indire un referendum abrogativo. Di questo si discuterà durante la prossima seduta convocata per lunedì 8 luglio. Il servizio di Simona Lazzaro. La Campania è pronta a chiedere il referendum abrogativo per l'autonomia differenziata. Non è un mistero che la Regione sia contraria alla nuova legge. Il presidente Vincenzo De Luca aveva infatti detto che l'autonomia così com'è concepita è una truffa che spacca l'Italia e privilegia i più ricchi. Il Consiglio regionale si riunirà quindi lunedì prossimo dalle 15.30 alle 18 in una seduta straordinaria e monotematica il cui ordine del giorno sarà la richiesta di indire un referendum abrogativo. La richiesta è stata presentata dai partiti di centrosinistra. La Campania non è l'unica regione che vuole chiedere il referendum contro l'autonomia. Sul quesito referendario sono al lavoro infatti anche la Puglia, la Toscana e l'Emilia Romagna. Al contrario, il Veneto ha già chiesto di attribuire alla Regione le nuove materie non subordinate ai livelli essenziali delle prestazioni. Famigerati LEP richiesta che ha scatenato persino in verità la perplessità del ministro della protezione civile Nello Musumeci. La richiesta di Zai ha dichiarato mi sembra assolutamente precoce.